Anticipazioni dei Dreamer Martedì 23 febbraio 2021 Puntata poveridiana Durante i festeggiamenti Jeanne continua a ripetere a Sanem che Egitto la fissa in quel modo perché prova interesse nei suoi confronti. L'ulteriore prova a favore di questo interesse è la dedica che le ha scritto sul libro. Ovviamente Sanem non è affatto d'accordo e sostiene che Egitto sia interessato a lei in senso artistico e non sentimentale. Durante la festa la situazione peggiora drasticamente. Arriva l'uomo che Jeanne aveva incaricato per cercare informazioni su Egitto. Quest'ultimo riferisce al fotografo che effettivamente Egitto non ha nessun aggancio in America, quindi quello che ha raccontato non è vero. Jeanne e Egitto iniziano a scontrarsi violentemente mentre Sanem li guarda sconvolta. Di vita accusa Egitto di essere un bugiardo e dice davanti a tutti che la vicenda dell'accordo con l'America è falsa. Furioso Egitto tira fuori le prove schiaccianti dell'accordo. Martedì 23 febbraio 2021 puntata in prima serata. La discussione almeno apparentemente finisce e un po' di tempo dopo Jeanne e Sanem si incontrano per chiarirsi. I due fanno pace e l'Aidin capisce le preoccupazioni del fidanzato ma tra i due non è del tutto tornato il sereno. Jeanne decide quindi di farsi perdonare da Sanem e la porta al capanno in cui allestisce un ambiente elegante e rilassante dove forse potrà trovare l'ispirazione che ha perso. Sanem non riesce a scrivere nulla e così deludendo Jeanne chiede di essere accompagnata nella casa editrice. Li scopre che Egitto ha avuto esattamente la stessa idea di Jeanne e ha decorato la scrivania e preparato tutto per farla ispirare nuovamente. JJ si rende conto che Egitto prova un forte interesse per Sanem e nel tentativo di dare una mano al suo amico Jeanne si introduce a casa di Egitto per trovare prove contro di lui. L'incursione non porta alcun risultato perché JJ non si accorge di un enorme poster di Sanem che Egitto ha sistemato in casa. No 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 Grazie a tutti.